professoressa colpi che cosa sono i buchi neri il buco nero una trappola cosmica la terra è un pianeta che possiede una superficie come il sole e noi possiamo sfuggire dalla terra il buco nero possiede una massa ma questa massa era chiusa in un volume nullo densità infinita una singolarità questa singolarità è racchiusa in una superficie sferica che noi chiamiamo orizzonte degli eventi chiunque attraversa questo orizzonte si trova in una zona di non ritorno perché la gravità è intensa nemmeno la luce trova via di fuga e perché si parla di evaporazione in relazione ai buchi neri secondo la meccanica quantistica dove vi energia vi sono fluttuazioni dell'energia e quindi si formano coppie di particelle che chiamiamo virtuali che esistono per tempi infinitesimi steven hawking ha capito che sul bordo dell'orizzonte vi è energia finché si possano creare queste particelle che però da virtuali diventano reali una particella cade e attraversa l'orizzonte la seconda particella invece riesce a sfuggire all'infinito e quindi i buchi neri emettono radiazione e il buco nero evapora molto lentamente perdendo tutta la sua massa proprio ho king ha pubblicato di recente uno studio che introduce importanti novità sui buchi neri quali sono steven hawking sta proponendo un nuovo concetto di buco nero immagina che l'orizzonte degli eventi non sia una superficie netta ma in realtà che sia apparente bucherellato e che l'informazione su come si sia formato il buco nero esce in modo così complesso come complesso prevedere il tempo a lungo termine come si osservano i buchi neri grazie all'ausilio dei radio telescopi dei telescopi ottici e dei satelliti per astronomia x noi osserviamo sorgenti luminosissime al centro delle galassie pensiamo che la luce la radiazione venga messa da un gas caldissimo che spiraleggia prima di cadere attraversare l'orizzonte di un buco nero buco nero di miliardi di soli il nuovo concetto di orizzonte degli eventi bucarellato di un buco nero non mette però in pericolo l'interpretazione di queste osservazioni riteniamo che i buchi neri esistano nel nostro universo l'orizzonte bucarellato può spiegare l'evaporazione evaporazione che avviene su tempi scala molto più lunghi dell'età dell'universo si potrà scoprire qualcosa di nuovo sull'orizzonte degli eventi si la missione spaziale europea ilisa cercherà di catturare le onde gravitazionali emesse da due buchi neri che si stanno scontrando in galassie in collisione e l'università di milano bicocca è coinvolta in prima linea in questa futura missione spaziale